Ciao ragazzi, qua è Omega, bella per tutti alla grande e bentornati su questo nuovo video Attenzione perché oggi abbiamo un doppio giocatore Perché saremo sia Cristiano Ronaldo sia un'altra persona Che per chi ha visto il video precedente dove Cristiano Ronaldo misteriosamente è stato sparato da una ragazza Anzi direi da una donna bella, buona, come piace a noi Non sappiamo ancora il motivo, quello che è successo, il perché, il per come, il per quando, il perché le madonne Però forse in questo video riusciremo, forse dico forse, a capire qualcosa Perché vi ricordo che io, come voi, non so nulla, commento, faccio Quindi vedremo un po' che cosa andrà a succedere Io vi invito solamente a mettere un bellissimo pollicione in su per il supporto A iscrivervi ovviamente al canale per non perdere i prossimi video E commentare, ditemi magari se riuscite a capire quello che sta succedendo in questi video In questi, già in questi video perché sono due o tre video che non sto capendo sinceramente manco io Prima di passare al video mi raccomando trovate il mio Instagram qui in descrizione Vi basta cercare Chiocciare Alentone ragazzi e vi potrò salutare in tutti i prossimi video Quindi mi raccomando ricordatevi che ci mettete solamente due secondi, solo due Sapete che ci tengo tantissimo, quindi passateci, lo sapete che ci tengo tanto Due secondi, due minuti, due secondi, ok insomma abbiamo reso l'idea Siamo da quello che vedo in ospedale perché è un po' fuscato, non si vede Non riesco nemmeno a comandarlo bene, non riesco a girarmi, a capire che cosa sta succedendo Fa se ci stanno per operare e non siamo manco riusciti, cioè nemmeno il tempo di uscire dall'ospedale Per l'esplosione che è successo, infatti non so se si vede ma il braccio come vedete è leggermente più marroncino rispetto alla pelle Perché le braccia di Ronaldo si sono ustionate che ci hanno sparato, infatti c'è anche del sangue alla punta della maglietta Penso che ci abbiano tolto la maglietta perché adesso ci devono operare Riconosco Giorgina, qualche paramedico, non riesco a vedere Ronaldo è un dottore, si sta toccando la testa di aver battuto Vedo due dottori, allora non sto capendo niente, così come voi Cerchiamo di analizzare la situazione e vedere un attimino quello che sta succedendo E Ronaldo sembra che sia stato sparato due volte alla spalla e che il resto siano, non so se sta dissanguato Come vedete le sue braccia sono ustionate dall'incidente che è successo con Jasmine Di cui lui ancora non sa nulla e penso che dopo aver ritolto la felpa adesso devono operare d'urgenza Perché no poverino, non so se morirà, ha due ferite gravi, non sta capendo niente Non sappiamo manco da chi siano stati sparati Quindi forse è ora di darsi una mossa e dovranno operarlo perché vorrei che tutto quel sangue sulla maglia sia un po' fatale per lui Non sto capendo niente ragazzi, vi giuro, non sto capendo niente Solo una volta è successa una cosa da gente, nella prima serie da vivere da calciatore Quando Ronaldo organizza una cosa, ma questa cosa non mi sembra per nulla organizzata Non penso che non si faccia sparare In tutto questo ragazzi, Ronaldo Junior dov'è? Mio figlio, non sto capendo più niente Vabbè ragazzi, qui c'è Giorgina che si sta disperando Il dottore, il paramedico anche che penso sia un mio fan, non lo so Ragazzi, è tutta una questione di mistero puro, veramente Attenzione ragazzi, attenzione Qui c'è importante, non sappiamo chi sia questa donna, da dove venga e cosa voglia da Ronaldo e perché l'abbia sparato Non sappiamo praticamente nulla se non chi è una bella donna e chi ha sparato a Ronaldo Non sappiamo altro Chiediamo di scoprire qualcosa su questa faccenda A me non resta altro che vedere il video insieme a voi, commentare e cercare di capire Oddio ragazzi, è uscita una pistola Ma quella è Giorgina, forse aveva iniziato l'operazione di Ronaldo Non mi direi che vuole uccidere anche lei No, non la vuole uccidere Cosa sta succedendo ragazzi, non sto capendo Allora, questa donna Da quello che mi pare di capire Sembra piuttosto istruita Sembra molto agile Insomma, sembra che sappia il fatto suo Sembra addestrata Giorgina sembra molto Come dire ragazzi Disperata per quello che sta succedendo Ma non ho ancora capito bene Che cosa vuole questa donna da Ronaldo Cioè ragazzi, poi tra l'altro una donna Possa capire un uomo Ronaldo a tanti nemici Ma una donna, non la capisco sinceramente Allora, adesso non so cosa sta fa Dove sta andando? Allora, questo è l'ospedale Non mi dite che vuole andare da sotto Oddio, sa pure fare le capriole in corsa Attenzione, è agile Conosce il parkour E sa usare molto bene le pistole No, no, no Che cosa vuole fare? Vuole uccidere persone Sembra ragazzi che abbia capito Che Ronaldo non è morto Attenzione, sta cercando di capire Dove possa essere Sicuramente sarà al medical All'emergency room L'emergency room Perché è un'emergenza E ha la priorità su tutto e tutti Non mi dite che vuole uccidere Poi questi dei paramedici Oddio, cosa vorrà fare? Questi stanno fumando Non se ne sono manco accorti Oddio, le ha sciolti Ragazzi, con una tuzzata in bocca Non so, la nostra assassina Chiamiamola così Ha letteralmente buttato giù E stordito due paramedici Sembra che ora voglia entrare Per assicurarsi che Ronaldo sia morto O per ucciderlo O non so che cosa Ragazzi, sembra che la nostra assassina Sia arrivata Esattamente dove era Ronaldo Meno male che non c'è Giorgina Che gli ha detto che dovevano operarlo Sennò sarebbe andata in mezzo anche lei Allora, vediamo adesso che cosa succede Non mi dite che Oddio ragazzi Vuole ucciderli tutti Oddio Le apparecchiature dicono che sia ancora in vita Ronaldo Ma si è mosso? Meno male che nella sala dell'emergenza non ci sta nessuno Ma in ogni caso è meglio sbrigarsi e ancora arriva qualcuno Ha fatto fuori tre paramedici e due dottori in men che non si dica Allora, caro Ronaldo Sei ancora vivo? Oh, si è mosso ragazzi Questo posto è diventato uno schifo Tre paramedici morti Ragazzi, attenzione Ronaldo si è alzato L'assassina sta putando A pissola contro Ronaldo Ma non so perché ancora non sta sparando Ronaldo sta Cercando di dirgli qualcosa Allora Sta dicendo che Sa che vuole ucciderlo Che non può fare niente in queste condizioni Sta per crepare Però sta dicendo che non ha mai incontrato una ragazza bella come noi Cioè, come l'assassina che in questo momento stiamo Vedete? Noi stiamo impersonificando Oddio Ronaldo, stai cercando di fare il romantico per non farti ammazzare Non so se basterà Ok Oh mio Dio ragazzi, lo sta puntando alla testa Lo sta puntando alla testa Oh mamma E adesso? Non ci credo, ha abbassato l'arma Non ci credo ragazzi, ha abbassato l'arma Che diavolo Oh mio Dio Ragazzi, sembra che stiano parlando Ha abbassato l'arma E l'assassina sta parlando con Ronaldo Ronaldo ha smesso di parlare Allora Ragazzi, non riesco a sentire Si stanno dicendo qualcosa Che non riuscivo a sentire Ma Sembra che si stiano dicendo qualcosa E Ledo si è ascoltato e sta nuendo Attenzione Non sto capendo niente Ok Ronaldo ha detto Lei ha detto che va Cioè, ho capito solo, va bene Non sto capendo nulla ragazzi Oddio, il polizzo ti scappa, scappa Non mi dite che vuole spaccare la finestra Oddio Come ha fatto? Ma questa è pazza La situazione di critica Sembra che sia ricercata A tue stelle Non abbiamo capito niente Il perché è arrivata Non ha sparato Ronaldo Cosa si sono detti Sembra che è come se si fossero dati un appuntamento Ora non so cosa sta facendo Precisamente Penso che voglia rubare Un veicolo qualsiasi Per poter scappare Oddio No ragazzi Questa qui Da quello che sto vedendo È per forza testata Cioè questa qui Sa spaccare auto Sa fare parkour Sa uccidere persone Ha una mira infallibile Questa è per forza Un'assassina È esperta Anzi è espertissima Anzi Se riesce a scappare Con questo furgone Alla polizia Guardate che È davvero impressionante Cioè Io non ve lo giuro Non ho mai visto nulla di simile E sinceramente Anch'io come voi Non sto capendo Praticamente nulla Quindi ragazzi A questo punto Non so Vi lascerei così Perché Penso che comunque L'episodio sia finito Non so se riuscirà a scappare dalla polizia Ma comunque Penso che ce la farà Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Un bellissimo pollice Mi raccomando Spolliciate tantissimo i video Iscrivetevi al canale Così Non dovete Assolutamente perdere Il prossimo episodio Perché forse Il prossimo episodio Si capirà Qualcosina Sicuramente in più Non so cosa stia facendo Adesso Sta provando a sparare L'auto della polizia Perché la sta intracciando Oddio No ragazzi Cioè Ha sparato un'auto Dalla polizia Da dietro E l'ha presa Non ci sto capendo Niente manco io Quindi Ragazzi Io Non so Non so Non so Che altro dirvi Vi posso solamente dire Che Oddio Non mi dite Che riesce a scappare Con un'altra ruota Con una ruota fuori uso Ragazzi No Veramente Non ci credo Insomma Io vi ringrazio Per stati come anche Quest'oggi Vi ricordo di seguirmi Soprattutto anche Su Instagram Non so cosa sta succedendo Perché io sta rubando L'auto della polizia Senza Oh mio dio Oh mio dio Non ci credo ragazzi Non ci credo A quello che sto vedendo La prima volta Che succede una cosa Nella serie Vi ricordo di seguirmi su Instagram Che trovate tutto In descrizione Mi raccomando Ci vedete solamente Due secondi Seguite Chioccio E calentine Così potete Te salutate A fine Il prossimo video Perché ragazzi Questo non mi sembra veramente il caso Sta succedendo il bordello Sta succedendo davvero il bordello Noi ci vediamo Al prossimo video Non sappiamo Né chi sia Né cosa fa Né che non mi abbia Non sappiamo nulla Noi ci vediamo Al prossimo video Ragazzi Non dovete perderlo Per nulla al mondo Per nulla al mondo Qua è Omega Grazie per stati come anche Quest'oggi E ci vediamo Tutti quanti Al prossimo video Ciao Ciao